Meghan Markle ha sorriso ampiamente alla folla esultante mentre faceva un breve ritorno alla vita reale insieme al principe Ferri nella loro prima apparizione nel Regno Unito da quando si sono trasferiti negli Stati Uniti nel 2020, il finestrino dell'auto della duchessa del Sussex è stato abbassato mentre sorrideva alla folla esultante mentre partecipava alle celebrazioni del Giubileo di Platino a Buckingham Palace. Meghan ha dato uno sguardo sbalorditivo ai fotografi che hanno seguito gli eventi, indicando il ricongiungimento della coppia con altri membri della loro famiglia. Il principe Ferri e Meghan non si sono uniti alla regina o al principe William e Kate al balcone di Buckingham Palace, ma sono stati invece visti parlare con il duca di Kent e interagire con i figli della famiglia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.